Sì l'ho visto Sto cercando di salvare i Jure ragazzi Eccolo E a quanto pare due di me Ah eccolo sì 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 Colpito Colpito ha battuto dai ragazzi bravi dai 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 Sparate Dai 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 Ha battuto dai dai push 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 Due sono abbattuti eh Ha battuto una Perfetto Very nice Very 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 nice E infatti è 210 ragazzi Battuto Attaccate voi tre Voi tre attaccate sotto Voglio che attaccate da sotto dai ragazzi dai 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 Da sotto eh Io vi copro un po' Io vi copro un pochino Ha battuto un altro dai 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 Due sono abbattuti ragazzi eh Sì ce ne stanno altri Fate quelli dai Io vi copro dagli altri Cioè ce provo Very nice Sto arrivando da voi eh Abbattuto uno ragazzi Anche sopra ragazzi Anche sopra 210 Un che ho fatto un liscio col cecchino ragazzi non avete idea Bellissimo il signore nostro Ragazzi Non sbaglio Abbattuto abbattuto ne rimane uno solo PUSH PUSH Da dietro Da dietro raga 75 Abbattuto Vai vai 75 Ok Ah vai vai Abbattuto 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 Io sono felice 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 Aaaaa Che casino Che casino Raga da me tanti Una cifra proprio Madonne mia Quanti Ho preso a spangela C'ho una pistola Ma vaffanculo Te Non ho materializzé Davanti a te Davanti a te Ma niente Era uno senza un cazzo Eh sopra i tetti E' pieno Verso su Eccolo dov'era Hai visto? Hai visto che Sentivo puzzate Sentivo puzzate Stronzo Stai scappando Wow Dai 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 Veloce 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 Dai Eh Visto Sì Norden No Non sto Ti zingoli Si zingari Ma lo sapete che Mi sa che io Non ho sentito Non ho visto un altro Ragazzi E' qua Ok eliminato C'è altra gente Sì pure secondo me Sì Oh sì No Dietro Cosa mi sta cliccando Mi sono stavolta male Gli arrivano razzi in faccia pure a loro ragazzi Sì Ok Io mi sono giudicato Ok Grazie mille C'è gente a 150 Scaracca qua ragazzi Dai raga Cerchiamo di raggrupparci Dov'è il lanciamissili Quello nuovo Trovato il lanciamissili Dov'è? Indicazioni? Guardi c'è Proprio a sinistra Buonissimo Ma no Devi saltare tantissimo Dio raga Fighissimo Oh è un ritardato Checco Ma no Non è morto Morto Cucchia Ah ok Eh va bene ragazzi C'è rinuncio Preso C'è rinuncio ragazzi Ma nel collo gliel'hai tirata Ma nel collo gliel'hai tirata No Dai però Ma tutti gli avosingoli Vabbè Riflame Oh Vado Dai Dai Vado Ragazzi Dietro 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 No No Ok A terra No Iure Fammi volare Iure 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 Cazzo Iure Dai Ah ma è un altro Quello Si sperano Pesso Con me Madre 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 Ma che avete fatto In due minuti Arrivano altri Mi sa È qua Ragazzi io non ho shield E non ho un cazzo Arco zio Arco zio Arco zio Arco zio Qua Qua da me Qua 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 Dai che ce la fate Uno faccia la torre Basta Basta Sì sì Uno faccia la torre Sì Vabbè Vabbè Va bene Va bene Va bene Va bene Andiamo Mi piace Da me Abbattuto Io non c'ho Niente Niente Torca Trota Ma qua c'era una cassa E non lo è Non c'è Non c'è E non c'è Diormente Anche Di Mi 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 no